Il Consiglio Comunale Paternese ha approvato il piano economico finanziario e la tariffa alla tassa sui rifiuti per l'anno 2021. La novità importante di quest'anno è che Stato e Regione hanno inviato finanziamenti per circa 420.000 euro da destinare esclusivamente a sgravi da applicare sull'Atari delle aziende che durante la pandemia hanno subito un danno economico determinato dalla chiusura obbligata della loro attività. La Sise Civica ha detto sì alla delibera dell'Aggiunta Comunale. Il Consiglio Comunale su proposta dell'Aggiunta Municipale e su un ottimo lavoro fatto da parte degli uffici e dell'assessorato propone al Consiglio Comunale una tariffa ridotta del 40% per tutte quelle attività utenze non domestiche che hanno subito dei danni dal punto di vista economico per le restrizioni anti-Covid. Nello stesso modo abbiamo esteso questi sgravi anche a quelle attività quali libri professionisti, quali studi che nonostante non abbiano avuto direttamente la chiusura dell'attività in qualche modo hanno subito una ristrettezza indiretta economica. È un atto importante, questa amministrazione lo porta in Consiglio Comunale con orgoglio e con determinazione, a differenza di quelle voci al solito false e artefatte che in qualche modo avevano preannunciato un aumento dell'Atari. Sono delle voci ingiustificate, creano solamente tensione sociale all'interno della nostra città e delle figure istituzionali e non si possono permettere di veicolare nozioni e notizie false. La verità e la notizia vera è che questa amministrazione riduce del ben 40% l'Atari sia nella parte fissa che nella parte variabile per le utenze non domestiche, mantiene invariata l'Atari per le utenze domestiche, anzi atto uno sgravio per i nuclei monocomponenti. Quindi è un risultato importante, è un risultato di questa amministrazione che in un momento di grande difficoltà, quale l'emergenza Covid, che oltre ad essere un'emergenza sanitaria diventa un'emergenza economica, è un aiuto importante alla nostra collettività. Ci dispiace che parte dell'opposizione non abbia capito l'importanza dell'atto e di rendersi partecipe all'approvazione di tariffe ridotte e nello stesso tempo non si è potuto approvare purtroppo a causa dell'assenza di alcuni consiglieri di opposizione. Devo dire che due consiglieri di opposizione, quale il consigliere Loprest e il consigliere Rapisarda, hanno presenziato in aula permettendo la votazione dell'Atari. Diversamente l'assenza di altri, il consigliere comunale, direi assenza ingiustificata, non ha permesso la votazione del regolamento. Il regolamento avrebbe consentito sempre ad attività commerciale di uscire dalla gestione pubblica per quanto riguarda quello che sono i rifiuti speciali e permettere di avere ulteriori sgravi per il conferimento di rifiuti speciali. Questa opportunità è stata eliminata a causa dell'assenza dell'opposizione. Purtroppo mi rammarica dire che se da un lato c'è un risultato importante portato avanti dall'amministrazione c'è una incapacità da parte di alcuni consiglieri comunali di capire il momento storico importante e di lavorare per il bene della città. Si lavora solo per partito preso, questo partito preso sicuramente non aiuta lo sviluppo e il bene della nostra città.